Risate e riflessioni con Georges Feidot al Teatro Civico. Stasera e domani due atti unici del celebre drammaturgo francese a Palazzo di Città messi in scena dalla Compagnia Teatro Sassari per la regia di Alfredo Ruscito. Entrambe le opere rappresentano due acuti farseschi basati sul sempiterno gioco degli equivoci, dove la dissacrazione, familiare intercalsista, inchioda i protagonisti al meccanismo del divertimento, talvolta amaro. Nel primo lavoro, la mamma a buonanima della signora, adattato da Mario Lubino, i battibecchi coniugali tra una coppia allo spasimo vengono interrotti ed esasperati dalla notizia del decesso della madre e della moglie. Come sempre in Feidot, il dramma è soltanto un'ipotesi e lo spasso la realtà ultima dietro le finte mostre del lutto. Nel secondo atto, il rimedio è peggiore del male, la trama sembra più lineare ma non meno vertiginosa nell'effetto comico. Nel contesto iperprotetto da ambientazione borghese, il rompe ciclonica della campagna è una servegnara delle più elementari regole del Galateo. La comprensione letterale degli eventi da parte della donna causa incidenti a ripetizione, compreso il fallimento, per il patrone di casa, di un matrimonio di interesse. Le opere, impreziosite dall'inserimento del sassarese in una chiave di spontaneità, che accentua il meccanismo del riso, sono in programma oggi alle 21 e domani, domenica alle 19.